Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo nell'armadio Roma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati beccati di nuovo dalle telecamere del grande fratello VIP mentre cercavano un po' di privacy in uno degli armadi della casa. Questa volta, a vedere le immagini, sembra che i due si siano soltanto baciati. Questo è il secondo appuntamento tra le ante di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il primo appuntamento era stato decisamente più spinto con Cecilia Rodriguez in ginocchio mentre praticava sesso orale a Ignazio Moser, per guardare il video clicca qui.